guanto in pelle nero antisommossa interamente in pelle realizzato e prodotto in pakistan quindi parliamo di qualità molto buona ottime cuciture ben rifinite il palmo e pelle rovesciata per avere più aderenza bordo elasticizzato polsino elasticizzato interamente in pelle rinforzi con il lattice di gomma rivestiti in pelle rinforzi sulle dita sul dorso e anche sul pollice come vedete velcro per chiuderlo oltre all elastico a questo piccolo velcro si indossa molto bene non ha le taglie assortite e la lunghezza ovviamente non è un problema perché le dita possono fuoriuscire chiamato antisommossa si presta agli usi più disparati essendo in pelle necessita di una manutenzione con creme idonee per calzature per pelle molto morbidi si portano molto bene la pelle a calore col contatto con la mano tende ad ammorbidirsi per cui non prendete taglie troppo grande aderisce molto molto bene alla mano e le dita scoperte hanno la massima mobilità e sensibilità